Salve, benvenuti nel mio video, oggi voglio illustrare la mia ennesima opera, qua parliamo di un'opera a critici sul tavola e come vedete è l'ennesimo scorcio dedicata alla mia città che è Palermo, qua vediamo la cupola di San Giuseppe che si trova ai quattro canti di Palermo, proprio al centro. Allora, questa opera voglio rappresentare come tutte le mie opere, le mie radici attraverso il colore e ora voi penserete che questa opera è finita, invece no, questa è solo la bozza dell'opera, perché in questa opera ancora dobbiamo dare il carattere, il carattere lo darò attraverso la particolarità dei vicoli di Palermo, con i panestesi, i fili che passano tra balcone e balcone, diciamo che è quello il movimento del vicolo. Adesso vi farò vedere come cambierà l'opera da così a così, vi metterò a lavoro. Cadiz Cirono! Cadiz Cirono l'Opello, Cadiz Cirono! C威調 Perù Alla prossima Alla prossima Alla prossima